. Tina Cipollari e Giorgio Manetti, incontri segreti a Biterbo, il gossip. Uomini e donne, Tina Cipollari e Giorgio Manetti stanno insieme? News e gossip. Sì. Gli ultimi gossip rischiano di far tremare il trono over di uomini e donne. Secondo quanto riporta il settimanale Spy nellultimo numero in edicola, Tina Cipollari e Giorgio Manetti si frequenterebbero in gran segreto. . Certo, i due non hanno mai nascosto la loro amicizia ma pare che dopo la separazione della Vamp con il marito chi con Ali Marte chi con gli appuntamenti si sarebbero intensificati. . E soprattutto avrebbero al riparo da occhi indiscreti a Viterbo, la cittadina laziale dove lopinionista di Maria De Filippi è nata e cresciuta. . Pare che Tina e Giorgio siano stati avvistati da soli prima in un ristorante del posto e poi alle terme per un pomeriggio di totale relax. . Un venticello pettegolo dice che il bel Giorgio, tanto corteggiato, amato e desiderato da Gemma Galgani, si sia incontrato di nascosto con Tina Cipollari si legge sulla rivista edita da Mondadori. . È stato un incontro di amicizia, è scoppiata la passione o Tina e Giorgio vogliono semplicemente fare ingelosire Gemma? Chi segue uomini e donne sa che di recente la dama di Torino si è riavvicinata al gabbiano e pare più determinata che mai a riconquistarlo a tutti gli effetti. . . Ma la Cipollari continua a punzecchiare la sua rivale, non convinta delle sue intenzioni. . Di recente, poi, Tina ha spiegato che nella separazione con il marito non c'entrano terze persone. . Quale sarà la verità?. . Le parole di Tina Cipollari sulla separazione dal marito. . . Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente dal mio marito. . È stata una decisione sofferta. . Abbiamo lottato fino all'ultimo, ma ora dico a me stessa, forse è meglio così perché non potevamo più andare avanti, con queste parole Tina Cipollari ha annunciato a mezzo stampa la separazione dal marito e padre dei suoi tre figli Kikkonalli, conosciuto quasi venti anni fa proprio a uomini e donne. .